sui tiktok clicco un determinato video e me ne apre un altro ok io dico ma porca di quella buttana johnny ma se t'ho chiesto di aprire questo johnny perchè cazzo mi apre l'altro johnny ma perchè mi apre video a caso non ho capito scusami sto prendo quello di r entai e fammi vedere questo video qui ma è letteralmente r slash entai si la fantasia non so nemmeno no vabbè si potremmo chiamarlo in una maniera un po' più particolare non r quello di genio si chiama anime ma io come faccio a vedere le pagine che sto seguendo per esempio se vai sul tuo profilo no no l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto eh ha fatto una domanda io c'è sotto c'è sotto vicino alla casella c'è quelle cose ti fa vedere cosa hai seguito ok ogni volta che clicco avrò un video diverso memesita ma io l'ho visto l'ho visto che ci sono diventati tipo ieri gli alms ma che schifo perché c'è la tizia che fa l'occhiolino giusto partecipa si la tizia che fa l'occhiolino non ci è l'audio e qui mettono le conci peraltro sono bravi sì di solito si nico se scendi nei commenti ci sono deve essere una delle regole se non sbaglio però I'm coming è venuta ma perché sono in 4G what the fuck anche a me è successo ieri ieri stavo dicendo una cosa con il wifi con il cellulare mi fai ieri su Instagram e a certo punto mi ha switchato automaticamente al 4G me l'ho accorto dopo un po' e appena me l'ho accorto però mi ha switchato subito al wifi e poi cazzo se ne ha accorto cazzo se ne ha accorto e poi torniamo indietro infatti c'ero io che urlavo al cellulare guarda che ti ho visto eh quale cazzo vuoi fare per cortesia mi collega è un grandissimo pezzo di non so se perché deve andare da qualche parte credo a fare la spesa o giù di lì quando? poi ti ha lasciato o adesso? quando mi ha lasciato doveva aspettare che sua mamma le faceva qualcosa so cosa non mi ricordo cioè magari me l'ha detto mi ha detto stasera vabbè ci si vede stasera anche perché Marta stasera credo che parta da qualche parte non va in Sardegna bene la Puglia la Puglia bravissimo vedi che ti ricordi che era bene la Puglia e in Puglia come parlano come pugliesi non lo so però digli fammi una foto a Maggiulla è vero è vero è vero bello certo no vabbè questo è un anime è un anime spinto questo in realtà ah certo l'altro ieri ho scambiato anzi no era stamattina ho scambiato My First Girl Isagal per quella merda di Citrus c'era una scena con una fragola che si metteva in bocca che doveva farle si baciare dalla tizia o non so tu l'hai visto Citrus io mi ricordo cioè io l'ho vista che prima mi sembra quella di My First Girl Isagal poi l'ho visto meglio era quella di Citrus palese non me ne ricordo fragole Citrus si mette una una fragola in bocca quella quella bionda quella si diciamo bionda che tipo bionda con i capelli un po' fuxi arancioni provate il contenitore di biorischio quella che sembrava una calla una vera e propria calla i capelli biondi e i capelli fuxi arancioni non so che colore sono sono dei colori strani io non li so definire erano gialli no non erano completamente gialli erano tipo sull'arancione con le punte di un altro colore allora non è è la protagonista ce l'ha gialli guardate di Citrus ce l'ha gialli io non me lo ricordo io ho visto questo coso ho pensato fosse Mayfest e Galli sa Galli invece a me sembrava citrus secondo me è che la tizia la conosco la protagonista l'ho vista un fatto di volte ma io sullo sfondo che scorre in combinazione è la prima di giallo la protagonista no quella che si mette il telefono nelle bocce che gli cade ma lei è Armin non è la protagonista non è la protagonista di più di 5 minuti è con lei ma non è la protagonista è la volontaria che stiamo quella che scopre che la la sorella ci sta dentro che c'è una step sister da paura che ci sta non è la protagonista la protagonista è la presidentessa del club degli studenti la fissa di patica un po' con una kill senza potere scusatemi ok questo è imbecille ma sono dei deficienti questi ragazzi ho fatto una tripla eh a portarci fiugi del cazzo mi hai tolto 90 di vita ma dove cazzo guardi quando fiu ma mettila la freccia attività nemica neutralizzate la minaccia mi ha chiuso il mio amico scusami ma sarà firma se fiu se fucite dal bancone l'ho chiuso erano tutti deficienti questi vittoria per gli attaccanti spostarsi è sempre la scelta giusta sul rainbow quando qualcuno ti picca sono spostato quei due centimetri l'ho destabilizzato poi sono entrato a caso perchè stavo parlando e ero super distratto ha fatto 3 kill ah io ora voglio sapere i tizi di citrus perchè no ora non mi frega un cazzo io pensavo fosse il protagonista quella lì la protagonista è quella con i capelli biondi ma chi cazzo allora sai google no non mi rompe le coglioni sai com'è l'ho visto scusa non mi devi rompere i coglioni no allora non è lei no mi sa che era veramente my first girl is a gall trovare di nuovo quel meme no hai ragione che è difficile da credere sono rimasto sciocato anche io ma io non mi ricordo non ho visto my first girl is a gall non me la ricordo una scena con l'astroberry poi la cerco cerco mi ricordavo la scena con l'astroberry questa è una fuse parolta può dire una ma con i spunti infatti l'ho detto che io mi ricordavo che fosse cioè pensavo che fosse poi per questo l'ho chiesto anche mi è rimasto solo destabilizzato è che io mi ricordavo l'unica volta che me l'avevo visto che aveva i capelli diversi sa più un marroncini che biondi però si potrei dire anche mi ricordo più un castano non ce l'ha ma dove cazzo li vede biondi è stupido cioè io biondi negli anime li intendo proprio biondi che devono essere gialli questi mi sembrano più un marroncino che un cacato poi renderà diverso io tutte le foto ecco questa foto già sembrano più biondi in quest'altra foto sembrano marroni non marroni marroni ma un marroncino ok tanto mi hai detto quella con i capelli cosa ho detto ma che cazzo sta lì no ragazzi mi sono distratto abbiamo vinto non lo fate più guarda Shyamalan Shyamalan non sapevo che Ace fosse Shyamalan è andato in partita senza che lo sapevamo non l'ha mirato ma tu non hai visto come l'ha ucciso hai visto tutto è in hipfire da quando l'ha visto affinché non è morto anche con la pistola è andato in hipfire sì ho visto proprio allora cerco my first girl is a gal my first girl is a gal vediamo se era lei ma è lei mannaggia ma io non me la ricordo ora mi voglio vedere una scena con starberry che potano averli biondi ma con sotto arancioni che non sono arancioni sono di un colore diverso dal solito difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio ma what ma questa scena non me la ricordo devo rivedere my first girl is a gal perché io ci sono scene che non mi ricordo tipo quello dove accarezza il microfono facendo cose sconge potrebbe essere un endive però noi ci fidiamo lui l'ha visto una volta solo no mi hanno individuato che paura ciao robotino resta di cazzo io devo baricare le parti giuste perché poi sono maschio e quindi quindi tu chi sei invece? sono quello con le braccia veloce italiane ma voi c'ete tutti io ho assaggiato la pizza è buona guarda se dici una cosa del genere qui in Italia ma li conoscono ma li conoscono no hanno bannato Jack Bezos scusami dove è? no io non ce l'ho Jack Bezos è sfuttato il giocatore Jack Bezos sono appoggiato il battolai non c'è Jack Bezos sono di Amazon e vabbè ad orto sopra corro ho il culo pesante ok i fatti contano più delle parole devo ricaricare ma quante parti dovete rompere amici miei figli che serviva è per un po' no scherzavo hai fatto bene figli che cazzo guarda dove hai visto questa parola il nemico ha visto il contenitore di biorischio entra entra per il cazzo entra non è botola qua sopra è al muore è flawless quello là sopra no cambio caricatore come ha fatto Ash maledetta è Ash veramente guarda che ci ascio con un cazzo di vita amici fatelo pure da qui vede la palestra venite con me palestra c'è la banca piana c'è la banca piana e non la palestra vabbè c'è una cosa che le scave l'ascensore ecco va ancora cinque secondi sperimento che polla si è ammazzato va bene guarda guarda braga da terra ma tu di 3 kill tranne e camera dove era l'ultimo io non so se se eri già morto quando mi stavi vedendo se mi stavi vedendo soprattutto eh si se ti sto vedendo quando fuori ho fatto quei due deficienti erano due erano due uno è andato a terra infatti non l'hai visto che l'ho ucciso con la pistola a pompa da 3 km di distanza io ho visto uno solo no erano due erano compatti ma erano due infatti erano belli messi a birillo una raffica e sono andati fra l'altro quello che stava mirando la finestra perché ce n'era uno girato che non ha fatto un cazzo ma quello che stava girando che stava guardando la finestra c'è stato un po' prima che la mia arma la uccidesse che c'è un c'è un ratio pazzesco ma un rinculo che mamma mia non ha fatto niente non c'è nemmeno girato si è rassegnato ho detto eh vabbè mi stanno sparando e ti posso far la vita a cosa ne la vita a cosa vediamo cosa becco da questo pacchetto alphas pacchetto alfa io ho preso il ciondolo di plom un'epica me lo skip ma che pistola di merda lo equipaggio a tutti allora c'è la bandit jager ma si chiama banale questa schiena del leggendaria aperfrost posso vederla allora operatori fammi vedere tutti quelli della bellissima questa skin dov'è io non ho vestito normale non mi piace voglio l'applico c'è voglio dire epica ce l'ho tutte ormai le armi dei tedeschi con questa skin mancano solo i pompi ma voglio questa skin mi piace vai quanto costa il battle assai niente 20 euro forse questi sono gli attaccanti dove sto cercando di pensare 1.200 dovrebbe essere 10 euro pacchetti di denaro non lo uso si non ne ho andanove bella quella skin chi cazzo è questo mozi elite è uscito mozi elite scusami si ho trovato mozi elite non è mozi questo ragazzi ma che faccia brutta c'è guarda voglio vedermi l'esultanza dettagli ma gioca cricket con la rotula scusa ma non è mai mozi elite cosa si lascia vedere il balletto così ma porca troia ha preso una delle camera poi bellino bellino simbatica Bello, mi piace Come vestito non tantissimo Cioè, dall'immagine Cioè, lo vedi in game è più carino Di quando ti spunta sotto Da sotto sembra vecchissimo Infatti non capivo chi cazzo la roba era Poi Vendendolo in gioco è più simpatico Da biondo a non diventare rosso C'è una peonline E' sopra con Marta E' scopo con Marta E' sopra Ah, sopra Marta Capisco Cazzetto No, non lo seguo Tony su Instagram E non lo seguirò Tony su Instagram Con 4 rucchiere Seguo 3 persone su Instagram Comunque se ti piace Pornhub Adorerai Pornhub Live Se ti piace Zan Rewind Adorerai Zan Rewind Ho sbagliato Ti piace Zan Adorerai Zan Rewind Però non abbiamo fatto di vedere Perché limitarsi a guardare il porno Se puoi farlo Bella domanda Ci stiamo chiedendo tutti in sala Certo Ma quanto è bello Spera tanti sentimenti Che ha detto? La sigaretta è Mook Dìa la toglia Come dice Scemo Ma c'era una canzone napoletana Non l'ho capito Che cazzoni c'era? La canzone di che cazzano La canzone di che cazzano a monga Proteggete le bombe Ah ok Samer Osservami attentamente Guarda l'arma Guarda l'arma Ti adorerai questa skin Adorerai quest'altra skin La stessa Sì L'ho troppata per le pistole di tutti i tedeschi Per la P12 Ma porca troia Ma si fa ma che infarto No ragazzi No Si troppo forse A ridere che noi siamo su League of Legends e loro suggeriamo Robottino Dovemmo creare il canale Sea of Thieves E il canale Tom Clancy Te faccio il culo al combaleno Si Ti chiederlo a Marza Eh ma è Marza Non mi risponde Quando io ho detto dove sai a Marza A me Ho mandato a fangu Ara 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 Che morto Ara ara No siamo gli boscevichi insieme ai boscevichi Cazzarola porco Dispositivo Hanno rotto qui Dito in culo Check Ah E alza un dito Check Cazzarola Tommel Stanno rompendo cose Che paura E io romper un bottino Oh Oh Cazzarola 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 Sei sicuro posso muovermi Guarda ti passo davanti Ho 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 Non sono morto qui Bene Ma 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 Ehi Vazowski Potrebbe essere sopra E sopra E di chi è il sangue nelle scale Ultimo nemico rimasto winino Oh ho 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 Tutti come pesci stanno muorendo Ascенно giro da qua dietro che anche nelle scale era di caveira porco 2 e lo è per forza potremmo essere gabbia a caso e quindi le scale pari andorse te il nostro anzino dell'amore è stato un esecuzione non ho dovuto nemmeno mirare mi è piaciuto bandit è stato sneaky sneaky brastuga giocando a lol è bello che marta si doveva andare stasera aveva detto infatti mi ha mandato il messaggio che diceva facciamo dopo la live che non so a che ora marta va via un'altra cosa bellissima incredibile unbelievable la paperella è stata spedita ah che bello poi ti farai un bel bagno nella tua doccia riempita eh? eh? alla caldo? il bagno nella doccia riempita eh? cosa? il bagno nella doccia riempita come come una sera a Natale in Egitto prendete l'area e proteggete le volte che guardi? quello la riempi bella tutta con il silicone povera tua famiglia ora abbiamo una vasca non l'ho toccato Samuel non l'ho toccato è una vasca verticale adesso non l'ho toccato si è rotto il tavolino ma porco il cazzo ma vedi proprio mi piace vedi vedi ho fatto bene a farmi la mia vita penso di essere rook sono quell'altro dove ho il robottino? al mio eh scusate rook ti sparo nel cervello dove sei? ho sbagliato era la tua palla ancora 5 secondi sto dando i numeri ciao Samuel elettrifico le palle ho trovato una bomba prepararsi all'azione nemica ho piazzato il dispositivo vedete mi a prendere se no la doc non voglio vivere dispositivo piazzato ci penso io è andato dai che paura muro in sicurezza ma c'è tutto un ricordio oh sto bello sto andando dronando andai mozzi drone nemico in arrivo no non lo falte che mi vado a controllare delle altre parti questo è un bastardo sto rompendo shit senti lo buck ho sentito un'immagine residua sto andando non morire piano l'omega io 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 non sono parole ovunque caproia ho pensato fosse l'immagine come non si era cagata che facciamo vabbè balla delle gambe che non abbiamo mezza ma che fai se non mi trova ma pensa ancora ma basta ma fu uccidetelo vi prego da fastidio ecco la jana no pinga che è vicino alle scale dell'estito dell'amore ma oggi no ma pinga glielo puoi pinga glielo con i ping non ci arrivo lì non ci arrivo posso mirare il tavolino eh miraglielo è meglio di niente sono morta anche perché così tu lo fai spottare Gaveira è tua brava Gaveira è lui che deve venire da te aspetta la tua prenda brava Gaveira sta plantando è lì che è stata la sua fine guarda Amaron Amaron in seguente sotto il sole di un'estate marijuana ragazzi io 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 mino e si è messo in inglese cosa? tutto play mi si è messo in inglese ma a me mi si mette il steam ogni tanto in russo ma non mi faccio tutte queste domande ma dai appena ho cercato i bestiali sagalli mi è spuntata come i consigliati my wife is a student con... consul president che bello quell'anima beh quello dei più spinti che abbia visto era un passo dal... dall'essere un'entairo nooo vabbè sono lì però lo so dove sono e tu con noi? eh sono lì non hai visto ah no non so se non sei davvero non sai dove sono eh io sono killer croc vada eh vada eh io ci ho provato ci ho provato ho messo giù quando lo faccio sentire ragazzi non capisco che cazzo sto dicendo io non so non ricorderò mai che so qualsiasi cosa ma questa battuta di merda che all'inizio della canzone che ne sanno i 2000 la sua memoria e il videoclip non lo so sentito una volta o due massimo ma pensate che io sanno le stai invece no voi pensate che io zuccheri i miei ascensori invece pepo pepo i montacarichi invece pepo 3393 3393 c'è perso un addition? non l'ho presa io qualcun altro non ha fatto al posto mio e c'è morto anche sempre la signorina in giallo ma che fai la scela qui è paura chi vuol io porca troia porco dai mi ha beccato con quei pochi di vita hanno plantato dall'altra parte un operatore alleato rimasto solo una cosa ma cazzo a sinistra e stavano deficiando era palese dai raga gg io non ho capito perchè se se il side b era vuoto hanno piantato in a e l'hanno sdrumati e ci credo comunque allora guarda le mie skin sei pronto? stai guardando le mie skin io ho questa oppure per un'altra arma una completamente diversa questa noti differenza hanno la stessa stai guardando non vedo le differenze si mi hanno regato per gli operatori tedeschi le stesse skin per armi differenti io non ho parole perchè quella di Kamosho che ti ho fatto appena vedere con queste due armi ce l'ho anche per l'arma di Jäger cazzarola non riesco a salire nel barile perfetto non hanno niente con cui trontaglia addio madonna 10 secondi e porco Cristoforo Colombo incallito di sesso ma Gesù bomba individuata l'obiettivo è raggiungerla e disinmettarla mannaggia i cazzati vabbè mi metto qui ciao plus sono dove sei ragazzi dentro da sopra minchia la sopra dicevano c'era la partita e il cavallo che mi aspettavano solo che non mi hanno proposto una gangy bangy me l'hanno fatta e basta un po' che ti proiettivo ma scusa io sono riuscito a prenderla bomba avvistata dove era dove cazzo era che fastidio quando passano gli altri e a me mi devono uccidere un classico mo che va a tende mia oh no oh no oh no oh no oh no dead mazza se sto blaz attaccante neutralizzato ma che fai se non mi trova gangyangor basta con la salsa io riprovare più non mi hanno fatto fare un cazzo con ecco 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 però non voglio questo voglio l'hug l'hug mi sa di confident volta entro da dove cazzo mi pare a me ho pensato che ha i più se la chiami bene e sta venendo io da quando fuori piove che dico io i 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 cosa le diceva il tizio il tizio il tizio il tizio si 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 No. Look me, Daddy. Look me, Daddy. Ho il genio in cucina. I muffin sono terra e la ricettatrice è morta. Tu devi mettere il rito, prendere il cassetto, mettermi le ciabatte. Fai la valigia e andate a farlo tu. Sì, ha rotto la tabù! Ancora dieci secondi. Si guarda, si guarda, si guarda, si guarda, si guarda. Orzonata e si guarda. Si guarda. Ma che fare? Pagliaccio! Pagliaccio ancora. No, il figlio che dovevo disinnescatura, ma non è già morto. Ma che sei? Vieni qua, boocca. Mh. E' stato alto barese. I barese quindi pallano con la bocca chiusa. Si, praticamente si, si. Ti fai caso. Corro taglio quella, eh. Ehi, do due colpette, un boss. Vado a andare. Questa è una mossa pericolosa. Ci costa tutta la vita. Ok, perfetto. Ci sono fatti, andiamo via. Devi rompere qui. Devi rompere qui. Lei che ha il pompa, eh. Che fa qui. Cosa c'è fatto? Si ha fatto un colpo, non si è rotta. Non va? E' rotta. Non è rotta. Da me c'è il coso. Lo dimostro. Dove stai camminando sopra ancora? Sto continuando a cadere, aiuto. Sportate da lì. Che succede? Che succede? Amici? Perché devo... Oh, Dio. Io ci sono posto per colpa tua. Rompila almeno meglio. Rompila. Tiragli un colpo. Fidati che non è rotta. Non è rotta. Non c'è niente da me. Nuovo caricatore. Ma porca buttana. Rompila. 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 Questa è rotta. Questa è rotta. Eh, tra il regalo. Paura, la vera. Quella faccia di cazzo. Gabbè. Inoltre. 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 Che porca puttana E ho fatto schifo in culo Però Sommer mi ha fatto un botto ridere Quando hai camminato sopra la botola Mi vedevi andare giù No no da me eri sopra la botola Ce l'avevo attivo Sì ce l'avevo attivo salvalo No condividi Salva Da me eri sopra la botola beato No Nande kononni sensai ga Questo si che è un altro anno Questa fungere è necessario Un gioco supportato Ho una vita che faccio Distante replay su rainbow Li fa La vita che fa Distante replay su eh per ora Ho due cursori Oh mio dio C'è la foto ragazzi C'ho due cursori Fai fare questa Posso farlo scrivere indirettamente No C'ho fatto col telefonino Avanti su Su qualche parte Anche su Il nostro gruppo I giocati di Mene I contatti quindi ho due mouse Tutti fatti fino a due ore fa Non ho ragionato troppo tempo Io mandarle questo proprio Nel mio discord Dove io comando il mio discord E mandarle Nel mio adesivo di moro Poi Nel mio adesivo di moro Poi seleziona altre foto Sentai Sentai E Yuzu E se Yuzu Dai Dai Yuzu Fine Ora fa il compleanno Yuzu No quanti bandati Quanti 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 8 agosto fa il compleanno No hanno bandato Gooper Samuel Ma non mi piacciono Gummy noodles Ma sono bruttissimi Sono cazzi nel cooler I contatti quindi Dove ho due mouse Guardate Eh devo vedere Ice Cool Cool Cus cus Ice ice Cus cus E se sparassi Ma ora il problema è vero E il seguente A chi devi sparare Solo nella visualizzazione Di NVIDIA Dovevo sparare a lui Vado a fermo Tranquillo C'è il morso Rimangono dieci secondi Muori dalla linea di tiro Aspetta che devo Ah ora sono più potente Ho perso i cereali Dell'orto Il nemico ha individuato Il contenitore Il primo colpo De frega loro Foto forno Roboti Di positivo attivato Ciao gli uomini Vuoi che ti spari in testa No Farò kill Solo questo Spacchi di brutto Buona fortuna Correrò in faccia Alla gente I miei due di velocità No che due Magari avessi due di velocità No vedi L'hanno reworkato Ora ne hai due Veramente Oh c'è il maschio No non è il maschio Scusa Vado scambiato C'è il maschio Si chiama big don Non era un sovrommobile BOM 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 Pensate al nemico Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore L'ho visto così fermo Non ci riuscirò No è No è l'arma Samo è l'arma Forca Perché non ci sento che bussi Io ho rotto la barrigata Si è cagato in mano E ci ha fatto Non ho fatto Che fare E te parlavo Ancora non ho detto È l'arma È l'arma È l'arma Si è girato Si Occupato No no Si è girato Occupato La faccia perplessa Mentre io gli sparavo Fammi tirare La nostra cuore Le 9 e 59 Troppo Aspetta che faccio I tallow 10 9 8 7 6 5 4 3 1 2 1 1 Solo le 10 Cazzo però ci ho azzeccato Quasi ci ho azzeccato C'ho quasi azzeccato E ragazzi Sciomiga Scappa 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 Let's just fuck boy Aiii Aiii C'ho 5 13 di vita Aiii Non era per te la shuming Era quello che ha messo le cose 5 secondi Non c'è nemmeno doc Mi può curare Cuglione Ho piazzato il dispositivo Quello però Tutte le kill per te Ma magari ti ammazzi Dispositivo in campo E io godo Eh ma ciò che ammazzano Voi zi Pfff Sto ricaricando colpa di samuel più mica schumacher ti faccio finire no schumacher che era per era per rucco poi è morto lui dovevi stare calmo e vieni tranquillamente alla spalla vedi ora sei morto il contenitore di biorì fratellino pensate al nemico ultimo attaccante rimasto in vita ogni volta che si spegne il fatto che è difeso sembra qualcuno che ci aveva la macchina e faceva bordello perché è scattuto allarme e lo spegne non ti muovere facciamo noi ti vediamo noi dove sta c'è una telecamera che si è utile ecco l'hai visto il laser fermo immobile fermo allora sei deficiente allora dillo dillo ti piace la banana sono un povero rincoglionito ma poi era entrato da mezz'ora c'è porco due c'è da battonetti in realtà non si vedeva mai nella vita quello quello che ho visto sarebbe dovuto morire se la mia canna non fosse stata così lunga ma canna fosse stata così lunga guardi fai fare una partita senza spararmi uccidermi o fare qualsiasi cosa che potrebbe ferire il mio aspetto psicofisico eh oddio il massimo posso trovare più un hp non è che è ma con l'hp mi rompe il cazzi ma sai che ti dico sfacim vivi 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 vingi manca poco alla luce di nuovo prodotto el cato il 15 trovato sul canale un video in esclusiva domani domani poi mi linki che cos'è magari è una minchia di 3 metri automatica per tutte le twitch streamer o per il twitch streamer nella scatola sembra una webcam nella strada di blink nella strada di bling c'è una scatola sembra una webcam legato fa webcam è un nuovo prodotto capirai può essere nuovo anche che già lo facevano ma è un nuovo modello quello è il nuovo modello abu questo è il nuovo prodotto no 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 dicono nuovo prodotto loro dicono come cos'è un impianto un insieme di apparecchiature cos'è un'apparecchiatura una cazzata che gira è una webcam godo come un riccio perchè scusami mi compro quella che compro ma perchè con l'ecosistema del gato ragazzi ragazzi io voglio stare eeeh stai minchia ai sfaccim vi 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 vinci devo vedere Moro dove è Moro vado a riempire la bottiglia vado a crea sassi sono Gesù no 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 oh no ultimo uomo per la squadra alleata non è vero ma non si è mai visto in quella cosa non so nemmeno ricaricando battlenet dice cazzate vi dico io cazzate vabbè diciamo che sta dovete trovare il contenitore di biorischio vabbè fra l'altro lo sai una cosa che stanno ora sicuro sopra c'è la ora che sei tornato ma sai una cosa che la caccapuzza si ma alcune persone in gina stanno vendendo le loro serie 3000 perché le criptovalute hanno smesso di di valere e hanno venduto di seconda mano cioè a blocchi tipo di 300 schede video a blocco si parlava vendendole a circa 400 dollari in realtà per una serie 3000 da 3060 se non mi sbaglio che non è male ripeto e io quella io quella stavista il pompa stai drogando stai drogando vieni ora corri stai drogando non ho potuto non ho fatto niente perché ero stordito no più cazzo perché ero stordito arriva una botta di adrenalina allora qui stai drogando sono un secco incremento adrenalinico in arrivo liberate l'area dell'esplosione non sono difensore rimatto tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia difensori eliminati perfetto abbiamo fatto il bucca che da due posti differenti non aveva scampo oddio blitz parliamone selezionare green block prendi applica aziona casuale ash no casuale gladz no casuale ash no è bello se è casuale di nuovo gladz no facevi un ping pong finchè non scadeva il tempo e prendevi i feuds ammazza che pettine poi ne aveva detto un'altra oggi ne sono visto un'altra nocciolina e ne aveva detto un'altra ancora mazza con ombrellone che mega se la nostra ultima speranza sono sopra e dove erano primi i pezzettoni inserimento tra cinque secondi devo cambiare il visuale ma non posso non sappiamo dove il contenitore di fiorizzo che cazzo di fastidio che cazzo di fastidio ah dog dog ammazza che pettine ok ammazza che rondine il robotino chiop bene drone attivato l'ho imparato la lezione hanno imparato la lezione fa piacere ma po' questa di carne hai visto? potete ammazzare c'è cavera sotto? ma cogliona non ho imparato la lezione ancora contenitore di biorischio trovato ammazza che rondine non ho ancora imparato la lezione dobbiamo cagare il cazzo no! come cazzo hanno fatto? tutto tutto a sinistra? pari in pre fire l'hai spiegato tutti i tracks? perfetto mi ha capito vedo anche dietro io te le consiglio di metterli voglio più difendete la strada e proteggete il contenitore ultimo uomo per la squadra ultimo nemico rimatto rimangono 5 secondi ce l'avete fatta contenitore ottenuto ma come fa ad essere primo? porca però io li odio tutti e pure tu meritai di essere sopra quello stronzo ma che fai se non mi gioca? ah poi hanno fatto le schede video adatte per il mining infatti stanno diciamo andando a ruba fate così così non ci cagate il cazzo la dicitura si chiama la dicitura LHR bene giusto? l'ho detto così la dicitura è Light Ast Rate ah le serie non ha ah le serie non LHR acquistano rapidamente valori dopo tutto quelle che è le carte offrono grandi quelle carte offrono grandi prestazioni di mining sono quelle vedo le estrazioni delle cripto video queste sono le... una cosa che dovevo dire quella sera quando ha vinto l'Italia abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo vinto anche se io erano vinto mia sorella che la vogliono rifare perché l'Inghilterra gli pesa il culo l'Inghilterra ci deve stare zitta e buona e abbiamo spaccato il culo pure all'Eurovision quindi deve stare zitta e buona e a quanto pare no perchè tutte c'è sono come dei bambini piccoli ragazzi come dei bambini piccoli c'è no ci pesa il culo abbiamo perso non vale facciamola ma hai perso hai scegliato la settimana pina perchè sei un coglione ti assuchi il coglione dai a mangiare ancora di pasta asciutta come ha detto Chiellini io subito quando ho sentito quella battuta che ha detto Chiellini ho detto ma perchè non gli ha detto ne devono mangiare ancora dei condom flakes spero non gliela facciano rifare davvero e che non se la meritano non solo non se la meritano ma è come dare ragione quando sufficientemente non hai ragione è come dare un contentino a un bambino perchè il bambino deficiente deve forse avere ragione sono bastardo geneticamente sono bastardo geneticamente sono bastardo geneticamente bello è un rischio bello dove? lui lui dove? uno scotch un brandy una limonata del vino rosè questo è simbolo dell'umbrella non so cosa sia dai! e ho bucato la uno siiii guarda lì guarda lì guarda lì la uno orco ho due eh che paura ma sentito i difficili tu che barricato tuo nooo nooo ingresso sicuro ingresso sicuro nooo sensore cardiaco attivato lo non non il ma il E' uno scudo Samuel, non so se ti conviene Se avanza te lo dico, se lo prendi da dire C'è Ashe dietro Ora mi rompe Io mi prendo questo masso e me lo chiavo in culo Con quelle hitbox piccole che si trova Sì è vero, sono l'unico che gli ha fatto una kill Sempre per il fatto Ti ricordi quelle skin che avevo Per il culo Ce la dà per tutto se skin Comunque vada Vedo la sua faccia La skin Comunque vada Guardo la sua faccia Ricordo Rivedo la sua faccia Rivedo la sua faccia E c'è un muro che dice abbiamo vino Il muro è fatto Ti muovi E no Eeeh ma c'è Rena C'è i lights Stai che ho paura di prendere lights Mi sciogli in meno Ma non si impara Dei mettere qui non me ne trovo un cazzo Ehi minta quanto pare con tutte cose questo Il nemico ha individuato il contenitore di Orgide lo ucciso prima di un barredetto Sa cagare meno Cazzo Ma ha parecato pure Ma che cazzo L'ho disattivato Stazione di cura piazzata Stazione piazzata E' quasi Quasi ci godo Corco 2 Oh Impatto lanciato No No Non voglio morire così Non me lo merito Dove sei? Mi ha corrido i head Da dove ero prima Nella porta Stai entrando qualcuno? Non lo so Ma è fuso dalla finestra Era mio Mi ha fatto un sacco di persone Da quella finestra Non te lo meriti di morire Stai entrando Stai fuso Bravo coglione Te avevo visto il filo C'è lì Montagna Vai in giro C'è lì montagna E' morto C'è lì montagna L'ho ucciso Vittoria alla difesa Montagna Vitto che si sparava Con lo scuro abbassato Del tuo posto E' mio Quella finezza Ha sceso Ai qui No ai qui Ok Quella zoccola di Ash Stavo per ammazzare Jules Stavo facendo il giro Ammazzato Montagna E' stato Budurioso Come l'ho fatto Pesso Jules Che si è visto Poi quel filo Il filo che si ritirava Sta per arrivare Sta per arrivare Mi ha mirato Se mi sente al filo Finché non ho visto la testa Mi ha detto Ti sfraccate la morte Anche lui Però è un bazzato Ash Ah Si nasconde dietro montagna Invece no E infatti io quello Prima volevo fare quello Però la tizia Se l'hai preso sul personale Rimaneva nella mia stessa stanza Che se rompi quella finestra Ce l'avevi proprio Tutto e due lì Ottimo lavoro Contenuto No Di Io ho Io ho E' vero salto Io ho Appare Slife for me Papara 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 No Io ho testa di cazzo Di un cazzo Io ho Appare Slife for me 10 secondi 10 secondi all'inserimento Ancora 5 secondi Eh ma finché aveva detto Steve che non c'era Fino oggi Non mi vale Fino a mercoledì Oggi è mercoledì Redditata 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 Oh no Eh Rolto la telecamera Almeno Porto la finestra Che che sta facendo Ah vuoi aperte Questa Porta Basta dirlo Non la volevo Aperta Per questa Finestra Basta chiedere Grazie Grazie Non me lo Presidente Nixon ha detto Che faccio Una brutta fine E invece Sono ancora qui A morire Attività nemica Tornate Ottenete il contenitore L'ultimo nemico Il contenitore è mio È mio il contenitore Mio No caccate cazzo Grazie Prego T'ho aperto la finestra Volevi quello no? C'è di merda Volevi che aprirsi la finestra Giusto? Sì Eh te l'ho fatto Ho fatto un favore no? Sì Quindi 5 euro Merdi una medaglia No che poi dobbiamo rifare la partita Che si offendono Sono inglesi questi No attento se la sono tolta Sai quante ne avanzano Porca putta C'è anche lì Anche lì Proprio pezzi di merda Proprio pezzi di merda Fino alla fine C'è un secondo posto In Europa Vabbè Sconsolato Mi sei preso No Gli inglesi sono proprio Dei pezzi C'è dei bambinoni Non sono neanche più in Europa Romano il cazzo No No aspetta Sono in Europa Calmiamoci Oh Annula Brexit Sì ma non sono Non fanno più parte Della comunità europea Non è che non sono più in Europa No Te deve sbattere Chi è questa Ma è Alibi Che poi Non li voglio Nel prossimo torneo Ma fanno ancora parte Dell'Europa Non è sbatto No Non è vero No Non è vero È come dire Tu non sei italiano Perché stai in Sicilia È vero Ma non è vero Io sono romano Perché sono De Roma Perché sono De Roma 10 secondi All'inserimento So Dai Scalar 360 Visto che sei ultimo Ripasto Così i softi Non si soffronuti Vai Cazzo pigli No Lo sai chi è La gente di Scalar La gente di Gala Oh che fa Zalutati Che bella Che fai Gemmitaiz No Non ci sarà Non è La gente non è più Quello di imbecille Però Se spari attraverso il muro Se non è c'è qualche Ancora Qualche imbecille E' entrato E' entrato Che Che Come ho fatto entrare Infatti Dall'esterno Non lo vedi Di tosta Porca Troia Mi ha tirato Babusca Adoro io Babusca Come c'è Morto Brutto È arrivato Tramite Scanzione Non ha fatto Nemmeno La telecamera Ti rendi conto Ti colpì? Tau Tachanka So La finestra Non muro solo di finestra Ragazzi Porca la mamma Posso risentirlo? Ammurante Ammurante Tela smog Scusa Redditata 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 Con voi Quella è finda Sì ma perché Alibè è morta Urco 2 Redditata 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 Con noi Ho visto Un mollo Redditata 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 questa mappa è mia 11 kg o leccate mille qua e cortesia ammoccato le naranci e l'inghilterra me la posso care comunque sono sempre stato io for testi l'unica persona con cui potevi fare is per due volte di fila facciamone un'altra potevi darmelo io concludere col mio 11 che il posto rispettato aparsi per questo busto ma facendo preparare l'identità di genisola divento batman ripeto sempre questa cosa non la vita ma chiudo la live non la vita ma chiudere